Siamo in questa splendida città di Verona, ecco i matti che più matti non i pazzi, Carmela Simeone e Andrea Collalto di Container Radio, quindi sì. Siamo qua a Verona, siamo a un mercatino di Natale, esatto, anche perché quest'anno stiamo registrando praticamente On The Road, possiamo dire. Sì, lo special Natalizio On The Road. Che cosa riguarda questo special On The Road? Ovviamente come l'anno scorso faremo un bello spettacolo radiofodico che andrà proprio ad interagire con i nostri ascoltatori, registreremo qualcosina oggi, poi abbiamo già delle interviste che abbiamo già realizzato, poi abbiamo anche un bello spettacolo, un bello spettacolo. C'è anche il supporto di quelli sbriganti che sta lì dietro. Dove? Poi bisogna dire che ci abbiamo anche, che questa è lì dietro. No, qua dietro non c'è nessuno. Non si vede, non si vede. Non si vede. Non stavi lì dietro. E poi ci abbiamo il supporto, stavi dicendo. Stavamo anche il nostro cd da presentare. È vero. Infatti parliamo un attimo di questo cd, un cd che vede anche la mia collaborazione, una collaborazione veramente diciamo fatta con cuore perché comunque sia, è stato un progetto che ho appoggiato sin da subito, un progetto che ho appoggiato anche per la grande umanità di questi due personaggi, di Carmela Simeone e di Andrea Collalto. La pazia. E quindi diciamo, ecco Andri, tira fuori il cd, tiralo fuori Andri, tiralo fuori il cd chiaramente. Inquadriamo un attimo il cd, la musica di un attimo di Andrea Collalto, Carmela Simeone e Luis Briganti. Un cd che racchiude una raccolta di brani non inediti chiaramente ma di cover rifatte, rivisitate e... Ok, sì, infatti il brano di Oreste è l'unico brano inedito che è entrato a far parte della raccolta del cd. Un cd realizzato anche con la collaborazione di Dejean, un noto produttore e compositore, arrangiatore, autore di brani che ringraziamo e con le voci, come già detto, di Carmela Simeone, Andrea Collalto, Luis Briganti e la partecipazione straordinaria di Oreste. E dove possiamo trovare questo disco? Perfetto, quindi qui siamo in questa bella piazza con i mercatini natalizi. da Verona, Carmela Simeone, Andrea Collalto, io alla ripresa, che mi sto improvvisando speaker, la musica di un attimo, la musica di un attimo per vivere in un attimo il Natale, la magia, tra l'altro abbiamo anche sottofondo di Campani, quindi bellissimo, le luci e... non ci resta che allora acquistarlo, acquistarlo, no, non mi faccio vedere. No, allora passo, passo piano piano, passo la camera, dammi un cd che questo almeno lo faccio vedere anch'io, eccolo qua, la musica di un attimo di Carmela Simeone, Andrea Collalto e tra l'altro ci sono anche io, so che rovino forse la copertina, però... è vero! Nonostante tutto, ci siamo, quindi il costo è di 5 euro, 5 euro che serve comunque sia per sostenere una radio che è libera da qualsiasi influenza attuale comunque sia del mercato, una radio che vuole soprattutto spingere per la buona musica, per la qualità degli artisti italiani e degli artisti anche non italiani che comunque sia solcano le nostre, le nostre radio e le nostre frequenze. E che dire, come dicevo prima, abbiamo diversi brani da Beso Vemmuccio, a Cercami, a Chissas, 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 Essenziale, La Notte, quindi una raccolta di brani selezionati con cura, con attenzione e anche con amore e con voglia di fare soprattutto della grande e buona musica, della grande e buona musica quella che ce n'è veramente bisogno, quindi rivolgo anche un appello a tutte le persone che ascolteranno questo e guarderanno questo video, un appello per dire che dobbiamo far sì che l'Italia ritorni un paese ai vertici non solo per quanto riguarda comunque sia diversi angoli di mercato, ma anche per quanto riguarda l'industria e l'azienda musicale, abbiamo bisogno di molti nuovi, abbiamo bisogno di qualità. È vero, assolutamente. Io vi mando un saluto, un abbraccio e rivolgo di nuovo un'anima gentile. Ragazzi, ci salutiamo. E vi prende il video su YouTube, Container Radio, Andrea, con l'altro Carmela Simeone, Gius Ligiani. Un abbraccio. Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale!